Rafforzate le misure di sicurezza d'Avellino in occasione del concerto di Gioedier, il rapper napoletano che domani sera salita sul palco della Smile Arena a Campo Genova. Si prevedono per difetto almeno 10.000 persone, molte provenienti anche da altre regioni. Il questore Nicolino Pepe ha disposto il rafforzamento dei controlli a partire dalla zona interessata dall'evento. Alle pattuglie della polizia si aggiungeranno quelle dei carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale. I controlli oltre a quelli relativi all'ordine pubblica, garantire lo svolgimento in sicurezza dell'evento, saranno anche mirati a prevenire i furti in appartamento che vengono incentivati dalla coincidenza di questi avvenimenti. Come registrato nei giorni scorsi, le bande di topi di appartamento si muovono contemporaneamente su più aree della città, soprattutto nelle zone residenziali alle quali le forze dell'ordine dedicheranno un'attenzione particolare.